Tornati ragazzi, oggi faremo una live focalizzata sul caso ledger e in particolare e in generale sugli hardware wallet tant'è che dopo magari metto a schermo anche una tavoletta grafica così che possiamo disegnare nel mentre secondo me facilita un pochino la comprensione visto che utilizzare poi solo le parole quando si va a spiegare concetti un pochino più tecnici e difficili magari torna un pochino più scomodo invece con l'aiuto magari di qualche disegnino che vi farò e qualche scritta in più secondo me si comprenderà meglio e dopodiché vengo come al solito a rispondere magari un po' alle domande quindi intanto un saluto a tutti quelli che ci sono qua in chat in questo momento vi dicevo oggi parliamo prevalentemente della questione hardware wallet nonostante sia uscita proprio oggi una notizia comunque molto interessante perché è uscito il post mortem ufficiale di quello che è successo tra virgolette settimana scorsa più o meno su Ethereum per quanto riguarda la finalità che è stata interrotta per qualche slot considerate che la finalità di Ethereum tipicamente avviene ogni due slot in realtà non proprio ogni due è a scaglioni di due quindi diciamo ogni tre però se avete visto tutto il mio video diciamo sul consenso di Ethereum in realtà queste cose sono già chiare e ad ogni modo farò un bel thread probabilmente domani dove spiegherò meglio un po' la situazione ve lo avevo già annunciato ormai un'eternità fa hai ragione perché con quello che è successo in questi ultimi giorni sembra che stiamo parlando no di tipo ah vabbè l'anno scorso in realtà settimana scorsa probabilmente nemmeno passata una settimana oppure è passata oggi cioè i termini sono veramente questi qui e un saluto a YFARMER come stai? un piacere di averti qua in chat e niente quindi direi di partire proprio da questo messaggio che ha scritto Charles Guillemot o Charles Guillemot perché è francese ed è il CTO di Tether è di Tether scusate è il CTO di Ledger infatti Ledger è un'azienda francese non so se questo già voi lo sapevate e di conseguenza il CTO il CTO di fatto è francese ed è questa persona qui e ha scritto a mio avviso un tweet molto molto importante perché negli ultimi giorni magari facciamo anche una piccola ricostruzione così il video è completo e anche il discorso è chiaro a chiunque si fosse perso gli ultimi tre giorni di tragedie racconti e storie nel panorama delle criptovalute di fatto due giorni fa esce una notizia da parte di Ledger che annuncia la possibilità con un nuovo aggiornamento software un nuovo aggiornamento del firmware di Ledger che da questo momento in poi è possibile utilizzare una nuova funzione che è opt-in opt-in vuol dire che gli utenti devono decidere in maniera completamente autonoma e utilizzando il proprio giudizio vuol dire che non è autorizzata di default di andare a utilizzare questa funzionalità che prende il nome di LedgerRecover o Recovery che costa 10 dollari al mese è necessario addirittura un procedimento di KYC e serve di fatto per ottenere una procedura di emergenza di recupero di recupera del proprio SID nel caso in cui non si sia riusciti a mantenerlo con le dovute precauzioni quindi non lo si ritrova più o semplicemente lo si è smarrito quindi magari tutti i supporti sia fisici che digitali sono andati perduti per una qualche catastrofe che sciaguratamente è capitata e quindi con questo servizio diciamo c'è questa possibilità di recupero molto semplicemente questa modalità LedgerRecover spezzetta il SID in tre parti e utilizza la modalità di diciamo il protocollo chiamiamolo un protocollo sebbene non lo sia Shamir Secret Sharing che è un procedimento matematico che consente di spezzare un segreto in tante parti e poter ricostruire questo segreto attraverso l'unione di alcune parti Shamir è un lo ripeto è un protocollo sebbene non sia un protocollo che è molto flessibile quindi tipicamente lo si spezza in tre parti e poi ne servono almeno due per poterlo ricostruire ma in realtà è super flessibile quindi potenzialmente si può anche creare un segreto spezzarlo in tre e avere l'obbligo di riavere tutte e tre necessariamente per poter ricostruire il segreto e chiaramente una di queste parti viene mandata a Ledger e le altre due parti vengono mandate ad altre parti fidate dopodiché previa verifica dell'identità quindi è una procedura di KYC è per questo che serve la procedura di KYC all'inizio perché poi viene richiesta una procedura di KYC per identificare l'utente ecco che queste tre parti tornano ti vengono reinviate a Ledger Ledger che poi riesce quindi a ricostruire il Seed perché queste tre parti voglio anche sottolinearlo non vengono mandate in chiaro ma vengono mandate criptate criptate sempre dal Ledger quindi di fatto vengono mandate a tre parti differenti dove queste tre parti non hanno accesso alle parti delle altre parti spero di essere stato chiaro almeno con questo quindi ogni entità possiede solo un pezzo di questi tre e con questo pezzo non può ricostruire il segreto se l'utente perde il Seed perde la mnemonic phrase fa questa richiesta fa questo passaggio di KYC se il KYC procede viene verificato ok sei tu allora tutte e tre queste enti inviano la loro parte a Ledger Ledger che a questo punto riesce a decriptare le tre singole parti perché le aveva criptate lui quindi riesce a fare ciò e riesce a riottenere il Seed di conseguenza l'utente è felice perché può tornare a utilizzare tutte le sue cripte eventualmente spostarle se ha paura tra l'altro non voglio anzi voglio esprimere la mia solidarietà con tutte le persone che abitano in Emilia Romagna ma principalmente nelle zone toccate da questa emergenza degli ultimi giorni e voglio anche cogliere l'occasione per evidenziare come queste tragedie che non sono affatto prevedibili talvolta succedono quindi mettiamoci veramente nei panni di una persona sfortunata che si è vista la casa allagata ha dovuto abbandonarla di corsa e magari perché pensando che una cosa del genere non potesse mai capitare a lui aveva salvato una sola copia della sua mnemonic proprio in un pezzo di carta che per intenderci è stato bagnato se è il pezzo di carta bagnato non c'è praticamente modo di poter riottenere la frase scritta su di esso quindi secondo me questa nella diciamo nella sciagura che è può secondo me accendere anche una campanellina dentro ognuno di noi che magari siamo stati più fortunati quindi non siamo stati toccati direttamente da questa da questa tragedia però no secondo me fa capire come in realtà almeno parlo nel mio caso l'Emilia Romagna è tipo a due ore e mezza di macchina quindi praticamente è dietro casa mia quindi ecco detto questo tornando invece al caso Ledger tornando al caso Ledger e partendo con questa che era la premessa si è scatenato il panico principalmente panico dovuto al fatto che l'utenza ma anche in realtà cioè non voglio dire le persone che non sanno come queste cose funzionano un po' tutti io stesso all'inizio mi sono detto caspita ma che mossa strana da parte di Ledger cioè proprio anche a livello di marketing tu che sei un hardware wallet uno anche dei più famosi potenzialmente sul mercato pubblicizzi qualche cosa che va quasi contro gli stessi principi fondanti per i quali tu hai comprato e compri un dispositivo come il Ledger cioè se tu compri il Ledger vuoi essere tu il detentore delle tue chiavi private non vuoi che siano altri a poterlo fare altrimenti stavi su un exchange no? e avevi anche la vita molto più semplice da quel punto di vista lì e oltre a questo un particolare problema cioè quello che ha destato più sospetti è stato proprio il fatto di ma come? ma quindi è possibile che il seed possa uscire da Ledger perché se questo seed viene spezzato in tre parti ed esce cosa cioè punto di domanda che cosa sta succedendo e quindi poi i social comunque sono anche molto bravi a creare questo panico forse cioè mi metto dentro anch'io sai avendo fatto un bel tweet molto lungo che in realtà era piuttosto secondo me moderato però magari leggendolo un po' di foga poteva essere visto quasi come un attenzione scappate da leggere poi ieri proprio per questo motivo ho anche deciso di scrivere un altro tweet per dare diciamo una visione più fatta con calma più diciamo a freddo e quindi no con una maggiore attenzione anche sui dettagli e oggi voglio andare ancora oltre andando un attimino più nel tecnico cercando di far capire come in realtà dal punto di vista della sicurezza non è cambiato il modello di fiducia che già prima utilizzando ledger noi avevamo quindi too long didn't read TLDR se qui potreste già finire con la live e andare a dormire di fatto se ci fidavamo di ledger prima cioè possiamo continuare a fidarci ora e ci sarà sempre questo livello di fiducia nell'azienda non è che il livello di fiducia è cambiata con l'introduzione di questa tipologia di servizio chiaramente per chi non fa richiesta di questo servizio perché per chi fa richiesta di ledger recover si aggiunge un potenziale punto di attacco dovuto a fingere l'identità di un'altra persona che sappiamo comunque questo è un problema reale nel senso che i furti di identità ci sono è vero che richiedono un KYC piuttosto completo cioè non basta la foto vogliono anche il video che muovi la testa quelli un pochino più complessi però sappiamo anche che gli attaccanti sono sempre più bravi nel riuscire effettivamente a feiccare questa tipologia di sistema quindi a mio avviso il sistema di fiducia rimane uguale a meno che uno non decide di fare utilizzo di questa funzione a quel punto si sta aggiungendo una superficie di attacco diversa però l'utente è anche conscio di farlo perché se accetta questa tipologia di servizi stiamo parlando probabilmente di un utente che non vuole prendersi la responsabilità totale del controllo e quindi delega parte di questa responsabilità e è un trade off come tutti i trade off c'è il vantaggio che è quello di avere una responsabilità in meno e lo svantaggio che è quello di avere una superficie di attacco maggiore potenzialmente quindi di poter perdere più facilmente le proprie criptovalute quindi la cosa che voglio cercare anche di far capire è che è sempre una questione di trade off e non tanto di qual è il più sicuro perché non è che esista un hardware wallet più sicuro anche perché potenzialmente uno può metterne assieme tanti fa un mega multi-sig e utilizza tutti i modelli diversi però poi ci metti dentro 5.000 dollari io ti dico per 5.000 dollari vale la pena crearsi tutto questo sistema gigantesco di sicurezza anche qui magari sì cioè uno è super paranoico ed è giusto che lo faccia detto questo vorrei scendere un pochino più nel tecnico di come funziona un hardware wallet più nel generale più nel tecnico così poi vado anche a rispondere alle domande perché ho visto che me le state facendo un po' però preferisco prima proseguire nella mia narrazione così magari anche qualche domanda tra virgolette viene gli viene data risposta nella mia narrazione d'accordo quindi per questo motivo utilizzerò questa scatoletta grafica vabbè scatoletta grafica è l'iPad in realtà quindi ok dovrei avervela condivisa e magari facciamo giusto una prova perché io in realtà vedo quello che vi sto scrivendo però giusto per capire tipo se io scrivo ciao dovreste vederlo anche voi ok mi sembra che sia tutto ok spero che non laghi da paura perché ho visto che in realtà la scritta sull'iPad è leggermente in ritardo ma non dovrebbe causare troppi problemi perché non è che mi metto a scrivere una poesia che voi dovete copiare quindi penso vada comunque bene quindi noi abbiamo il dispositivo fisico che magari lo disegno come questo gigante quadratone o rettangolo no e in generale questo qui è il nostro hardware wallet che alla fine è un pezzo tipicamente di plastica al cui interno c'è poi il circuito che lo fa funzionare e nel particolare non scenderemo nei dettagli perché poi tutti tutti i dettagli non li conosco nemmeno io perché bisognerebbe poi andare a conoscere come funzionano tutti i vari microcontrollori come varie funzioni e i collegamenti tra il processore del microcontrollore e le varie piccole memorie che ci sono no questo diciamo è un aspetto ancora più tecnico di quanto andremo a fare oggi invece la parte le parti importanti all'interno di un hardware wallet sono principalmente due la prima è quella che prende il nome magari la metto qui secondo me qui può andare bene questa tipicamente prende il nome di MCU che sta semplicemente per microcontroller unit che in italiano tipicamente viene tradotto come il microcontrollore che secondo il mio modesto parere possiamo tranquillamente vedere come un processore molto piccolino e quindi con delle funzionalità limitate nel senso che molto probabilmente non ha le stesse capacità di un processore di quelli che troviamo all'interno di un computer generico ad ogni modo gli permette di effettuare tutte le varie operazioni che sono necessarie per un hardware wallet quindi tipicamente la gestione diciamo della schermata video che è pur piccolina ma comunque è presente quindi che noi possiamo vedere effettivamente gli indirizzi vediamo tipo avanti e indietro la gestione dei bottoni tipicamente questi hardware wallet hanno dei pulsanti fisici che schiacciando vanno ad eseguire determinate azioni tipicamente sono azioni di o andare avanti nella lettura dello schermo oppure azioni invece proprio di conferma che tipicamente vanno poi a far effettivamente firmare i messaggi o comunque più in generale dare l'autorizzazione a qualche operazione e successivamente permettono anche di poi andare ad interagire con la memoria perché ovviamente il nostro hardware wallet andrebbe magari meglio chiamato in italiano non so più che portafoglio che sembra qualcosa al cui interno ci vanno le criptovalute è una sorta di strumento al cui interno ci stanno le chiavi criptografiche quindi è tipo un portachiavi portachiavi nel senso che contiene e gestisce le chiavi criptografiche che poi servono per poter spendere i bitcoin gli ether i token e tutto ciò che il nostro hardware wallet ci permette di gestire quindi le varie blockchain compatibili dopodiché c'è un secondo elemento che però attenzione non tutti gli hardware wallet hanno il ledger si e di conseguenza lo andrò ad aggiungere ma non tutti tipo vi dico già che il tracer non possiede questo secondo elemento quindi lo metto qui lo faccio più grande ma in realtà a livello fisico non so quanto sia grande e questo qui lo chiamo se che sta per secure elements secure elements è di fatto cioè dal nome elemento sicuro è una componente hardware la cui computazione tra virgolette avviene in maniera sicura perché è progettato in questo modo cioè è progettato affinché la computazione che avviene al suo interno sia protetta dall'esterno solo che tipicamente i produttori di secure elements e quindi le aziende che producono questa tipologia di hardware non rilasciano pubblicamente le specifiche di questa tipologia di firmware e ledger non produce il secure elements che mette al suo interno ledger ha un fornitore che effettivamente gli vende questo secure element tipicamente e questo lo scrive anche lo stesso CTO di ledger questi produttori nel momento in cui vanno a fornire questi secure element a ledger in questo caso ma a tutti i vari venditori vanno a fare degli accordi di ndh cioè di non disclosure agreements tali per cui la ledger stessa non può andare a dichiarare pubblicamente le specifiche con cui effettivamente questo secure element gestisce la chiave privata ecco perché una cosa che non ho scritto è che il seed qui lo vediamo se mi esce un po' così all'interno del secure element c'è una memoria magari la disegno in verde ecco questa qui è una memoria lo scrivo anche e all'interno di questa memoria viene conservata viene conservato il nostro seed che poi genera tutte le varie chiavi crittografiche quindi capite bene che questo secure element è importantissimo per quanto riguarda il nostro ledger ed è addirittura costruito in maniera tale che anche possedendo fisicamente il ledger di una terza persona aprendolo spaccandolo con un martello almeno teoricamente non sarebbe possibile non è possibile ottenere ciò che è costruito da questa memoria al più lo distruggete quindi rimuovete anche il contenuto della memoria a quel punto sicuramente avete distrutto il ledger ma comunque non siete riusciti ad accedere al contenuto del secure element e quindi di fatto non siete riusciti a proseguire nell'attacco dopodiché qui c'è un elemento che manca nel senso che tutto questo che ho disegnato è hardware quindi sono tutti elementi fisici sia l'MCU che il secure element ma ovviamente c'è del software che permette di innanzitutto far interagire queste componenti hardware e anche dopodiché permettere l'interazione con l'utente nel caso di ledger l'interazione con il ledger live eccetera eccetera questo software vediamo dove lo posso mettere lo scrivo in arancio e lo metto qui è quello che sarebbe poi il sistema operativo solo che il sistema operativo in componenti così piccoline tipicamente lo chiamano firmware scritto qui lo scrivo lo chiamano firmware ok ma ripeto non è nient'altro che il sistema operativo di tutto il dispositivo firmware semplicemente perché tipicamente nei dispositivi embedded cioè quelli piccini quindi raspberry tutte queste robe qui non lo chiamano sistema operativo ma lo chiamano firmware per ragioni storiche onestamente non so neanche firmware in inglese proprio specificatamente cosa voglia dire magari se lo sapete vi va di commentare è solo un piacere questo firmware per quanto riguarda ledger è closed source cioè il codice perché il firmware è un software quindi è codice non è disponibile nessuno lo può visionare in questo momento se non quelli che lavorano per ledger e quello che però innanzitutto è stato stabilito proprio dal CTO di ledger su questo tweet ma che in realtà probabilmente doveva essere già chiaro prima perché per come funziona il ledger stesso era ovvio che fosse così il sistema operativo deve necessariamente avere accesso a secure element e quindi alla memoria presente all'interno del secure element perché perché quando noi firmiamo una transazione di bitcoin ma potrei generalizzare per quando firmiamo una transazione su ethereum quello che serve è che la transazione entra non firmata nell'hardware wallet dopodiché il sistema operativo prende questa transazione non firmata la fa entrare nel secure element o magari non la fa entrare però in generale deve andare all'interno del secure element prendere la chiave privata generare una firma digitale la firma digitale viene generata all'interno del secure element e questa è la garanzia del secure element stesso cioè il fatto che la chiave non esca mai dal secure element e che quindi la firma digitale venga generata all'interno di questo secure element sarebbe in realtà una garanzia di sicurezza proprio perché a livello hardware ci viene garantito che il secure element ha una computazione protetta dall'esterno quindi dall'esterno non si può vedere la computazione che viene fatta all'interno del secure element dopodiché la firma digitale esce dal secure element e esce anche dal ledger perché tipicamente torna indietro va nel network e viene approvata questo è un po' il processo che tipicamente una transazione segue quando entra nel ledger ma così come quando voi firmate un messaggio con PGP perché sapete che nel ledger c'è la possibilità di scaricare l'app per firmare con PGP quello che succede semplicemente è che il messaggio entra nel ledger il messaggio e il sistema operativo prende il messaggio entra nel secure element firma il messaggio con la chiave crittografica giusta la firma digitale avviene all'interno del secure element poi esce dal secure element e viene rispedita di fatto al mittente o a chi per lui quindi una cosa molto importante secondo me è che tutto cioè la parte fondamentale quindi la firma digitale che sfrutta la chiave avviene sempre all'interno di questo secure element che ripeto è l'hardware è il produttore dell'hardware che ci dà la garanzia che il secure element funzioni ma magari fra 2-3 giorni si scopre una vulnerabilità presente nel secure element del produttore che il ledger utilizza ed è chiaro che i ledger sono vulnerabili ma questa tipologia di fiducia non è variata con l'introduzione di questo ledger recovery se già prima ci fidavamo anche adesso possiamo continuare a fidarci o comunque se non ci fidiamo non possiamo utilizzare il ledger perché il ledger possiede questo secure element una cosa che è molto importante da osservare è come funziona questo ledger recover che è poi stato probabilmente anche uno dei punti più controversi secondo me nel tweet del CTO di ledger lo ha spiegato molto meglio cioè quello che avviene con questo ledger recover è che in realtà il seed e quindi parliamo più facilmente la chiave privata non esce mai dal secure element quello che succede è che nel momento in cui noi accettiamo di accettiamo di utilizzare questa funzione di ledger recover noi innanzitutto dobbiamo confermare fisicamente quindi con i bottoni questa cosa questo perché perché per come è costruito il sistema operativo quindi il firmware di ledger ogni qualvolta il firmware rileva che deve avvenire della computazione all'interno del secure element quindi deve entrare a contatto con delle parti molto delicate ci viene sempre fatta richiesta in modo che non possa esserci una sorta di malware che entri a contatto direttamente nel secure element senza che noi abbiamo dato effettivamente una conferma che possa entrare quindi tornando a ledger recover io accetto diciamo premo insomma immagino premo entrambi i bottoni di questo ledger accetto quindi di condividere il mio seed ma in realtà non è che esce la chiave privata all'interno del secure element si viene generato si generano i tre segreti che sono poi diciamo segreto numero uno segreto numero due segreto numero tre tutti criptati non so se in tre modalità diverse o con la stessa modalità comunque vengono anche criptati dopodiché ciascuno di questi segreti quindi segreto uno segreto due segreto tre escono dal secure element e vanno ciascuno all'entità di riferimento quindi in realtà è analogo se ci pensate al caso precedente solo che nel caso precedente avveniva una firma digitale quindi si utilizzava la chiave criptografica per generare una firma digitale poi la firma usciva da secure element in questo caso all'interno del secure element avviene si genera un segreto utilizzando la tecnica shamir secret sharing poi lo si cripta anche quindi c'è anche una fase di criptazione di una fase criptografica proprio dove si va a nascondere quindi il vero segreto dopodiché il segreto esce dal secret element e va nella terza parte fidata quindi già secondo me dicendo questa cosa un po' di paure e un po' di dubbi evaporano nel senso che non è che il seed esca dal ledger semplicemente che quello che esce dal ledger e nel particolare quello che esce dal secure element è il segreto segreto numero uno segreto numero due segreto numero tre in forma criptata oltretutto quindi anche se un attaccante man in the middle si mettesse ad ascoltare il vostro traffico online nonostante in realtà ledger abbia dichiarato che la comunicazione del segreto criptato attraverso le entità venga in dei canali che sono a loro volta criptati quindi un attaccante che si metta ad ascoltare la vostra linea internet non riesce comunque a vederli ma ipotizziamo che li veda ad ogni modo vedrebbe dei messaggi criptati sicuramente otterrebbe delle informazioni in più però dal punto di vista puramente teorico comunque non riuscirebbe a ricondursi poi al vostro seed solamente con questi tre pezzi questo secondo me è molto importante anche da da segnalare dopo di che quello che io volevo dirvi è chiaramente ci sono tanti punti di fiducia nel ledger quello che però voglio sottolineare è che non è cambiato nulla da ieri e oggi ecco un altro punto di attacco per esempio che non c'entra col secure element è lo stesso fatemi sbloccare qui è lo stesso mcu qui è lui perché comunque anche l'MCU quindi anche questo controllore è prodotto sempre da un'azienda da un'azienda di terze parti e nulla vieta a questa azienda di terze parti di introdurre delle mini backdoor piccolissime falle che poi magari alla lunga vanno a però comportare la perdita di privacy perché magari fuoriescono dei leak sulla vostra chiave vi voglio giusto far vedere anche delle piccole osservazioni che ho trovato su questo sito quindi vi chiudo un attimo la schermata dell'iPad magari dopo la rimetto se necessaria se voi ci fate caso questo l'ho trovato proprio ripeto su questo sito Trezor Ledger e CoinKite che sarebbe Coldcard utilizzano tutti lo stesso STM32 come microcontrollore cioè è la stessa azienda da cui vanno a comprare il microcontrollore quindi potenzialmente c'è in realtà una centralizzazione di produttori di microcontrollori per i più famosi hardware wallet no e addirittura se uno volesse essere un po' complottista e va a vedere chi è questa azienda che produce questo STM32 va a scoprire che questa azienda si chiama STM Electronics è un'azienda olandese che nasce in realtà dall'unione di due aziende che avevano una grande componente governativa tra l'altro italiana e francese quindi se uno vuole diciamo essere veramente paranoico capito che qua uno dice caspita ma cosa vieta a questa azienda di mettere dei piccoli bug delle piccole backdoor che nemmeno Ledger magari si accorge di avere perché comunque magari non viene fatta la giusta due diligence sull'hardware magari sono talmente piccole che davvero è difficilissimo controllarle capite no così come sul secure element cioè sul secure element stesso adesso qui non avevo trovato qual è il produttore del secure element vabbè non è importante comunque anche il secure element è un altro elemento sul quale potrebbero essere messe tantissime backdoor vi faccio un esempio quando anzi qui riprendo l'ipad perché vi voglio far vedere un attimino come funziona quando viene firmata digitalmente è una transazione noi abbiamo la chiave qui questa è la nostra chiave privata lo scrivo anche chiave priv allora in realtà noi non utilizziamo direttamente la nostra chiave privata quando firmiamo la transazione la transazione facciamo che questa roba qui ok questa roba qui nel senso che sono dei dati di fatto quindi lo metto qua questi sono dei dati e nel particolare sono dei dati che in questo momento non includono la firma digitale quindi se fosse rimandata per esempio al network di bitcoin verrebbe rifiutata perché manca una parte importante che è quella della firma digitale quando noi vogliamo firmare quindi questi dati che ci vengono inoltrati noi prendiamo la nostra chiave quindi prendiamo questa d'accordo e andiamo a utilizzare tipicamente degli algoritmi di firma digitale chiaramente quindi scriviamo algorit anzi scriviamo algoritmi e basta e poi lo incollo sotto quindi sono degli algoritmi questi algoritmi sono diversi e variano anche in base a qual è la criptovaluta in questione giusto per farvi vedere bitcoin ne può utilizzare due uno è ecdsa e l'altro è schnor sono due tipologie di algoritmi digitali simili ma ovviamente con delle dovute differenze ma se siccome leggere ad esempio offre la possibilità di utilizzare tantissime blockchain anzi lato compatibilità è probabilmente l'hardware wallet più compatibile con più progetti in questo mondo per esempio compatibile con cosmos con molti progetti di polkadot con solana è veramente difficile trovare un altro hardware wallet che abbia la stessa componibilità nel mondo delle altcoin come il ledger e ognuno di questi algoritmi tra l'altro funziona in maniera differente però in generale hanno tutti qualcosa che li accomuna che è comunque lo scrivo in rosso la generazione di un numero casuale e ovviamente spazio cloud è insufficiente questo è limpido la parissiana allora la generazione di un numero casuale è importante non solo negli algoritmi di firma digitale ma anche nella generazione dell'entropia iniziale che è poi quella necessaria per generare la vostra master key quella che poi va a formare le vostre 12 o 24 parole e nel mondo dell'informatica nel mondo dei computer dei calcolatori i numeri casuali capite che sono difficili difficili da ottenere difficilissimi forse eccessivo perché perché in realtà il mondo dei calcolatori potenzialmente è deterministico cioè il processore se voi gli date quegli input e lui deve processare quella funzione la funzione deterministica quindi produrrà sempre quel determinato output in base a quell'input non c'è alcun elemento randomico e quindi in realtà tipicamente non si chiamano algoritmi di estrazione di numeri casuali ma estrazioni di numero pseudo casuali nel senso che si utilizzano delle funzioni ad hoc e si utilizzano dei dati come il rumore del microfono magari i pixel di una foto che scattate col telefono oppure potenzialmente potreste generare entropia anche in maniera autonoma lanciando dei dati 250 volte in realtà ci sono anche dei tutorial che trovate online se decidete di generare voi la vostra entropia considerate che il ledger vi permette sia di generare in maniera guidata la vostra mnemonic phrase iniziale vi genera lui l'entropia ora non so esattamente come prenda i dati dell'entropia iniziale probabilmente utilizza un po' non so spesso utilizzano anche tipo i tempi di oscillazione di alcuni loro microprocessori interni questo onestamente non lo so oppure prende la velocità con cui premete i tasti non vi so dire che dati esattamente prende il ledger ma vi genera lui l'entropia iniziale se voi non vi fidate nemmeno di questo algoritmo di generazione iniziale che ovviamente se fosse compromesso compromette poi tutto potreste generare voi la vostra mnemonic phrase oppure aggiungere una venticinquesima parola ci feci anche un video sull'introduzione di una venticinquesima parola cioè della passphrase perché la passphrase la aggiungete necessariamente voi quindi anche se l'entropia iniziale ve la fate dare dal ledger la venticinquesima parola è comunque vostra e genera un wallet totalmente differente da quello che solo il ledger sarebbe in grado di generare quindi questi sono tutti diciamo dei meccanismi che potete mettere in atto qualora voi vogliate aumentare il vostro livello di sicurezza o comunque qualora vogliate sperimentare però potrebbero non essere necessari cioè è sempre una questione di compromesso e di capire quello che fa per le vostre quello che fa per il vostro caso cioè se voi siete delle persone che avete anche un po' paura nella sperimentazione di queste cose perché non vi sentite abbastanza tecnici innanzitutto potete imparare e quindi farlo con importi microscopici ma potete anche decidere di non farlo sapendo che avrete sempre questo trade off di lato sicurezza affidabilità e fiducia in generale continuando sul discorso di numeri casuali i numeri casuali sono importantissimi anche negli algoritmi di firma digitale proprio perché ogni qual volta voi dovete firmare una transazione bisogna generare un nuovo numero casuale se l'algoritmo di generazione di numeri pseudo casuali è in un qualche modo bacato o c'è una backdoor si riesce quindi non so facciamo così con il fulmine no non è un fulmine è una freccia rossa si riesce a ricondursi alla chiave privata osservando più firme digitali in particolar modo fu famoso quando la Sony quando produsse la playstation 2 o la playstation 3 adesso non mi ricordo aveva un una back non una backdoor aveva proprio un bug all'interno dell'algoritmo che generava i numeri pseudo casuali sulle firme digitali dei giochi che si acquistavano tale per cui utilizzava sempre lo stesso numero casuale quindi non era un algoritmo di generazione c'era sempre lo stesso sempre lo stesso numero quando c'è sempre lo stesso numero un utente che vede due firme digitali sapendo che sono fatte oppure intuendo che sono state fatte con lo stesso numero casuale riesce a ricondursi alla chiave privata che apparteneva a Sony e serviva per autorizzare i giochi e quindi quello che era successo è che gli utenti potevano autorizzare tra virgolette rendere verificati i giochi che in realtà magari avevano scaricato illegalmente da internet ora finché si tratta di giochi la Sony ha rilasciato l'aggiornamento fine dei giochi capite che quando si tratta dei vostri soldi fine dei giochi vuol dire che avete perso avete perso le vostre criptovalute però anche qui è cambiato qualcosa rispetto a prima? no cioè se già prima ci fedevamo dell'algoritmo di generazione pseudo casuale dei numeri da parte di Ledger non vedo motivo perché adesso dobbiamo cambiare idea o meglio possiamo anche cambiare idea perché magari ne siamo più consci e quindi diciamo ah caspita però non è cambiato nulla all'atto pratico quindi magari può cambiare in noi la consapevolezza di tutto ciò vi voglio fare anche un'altra considerazione cioè io vi dicevo all'inizio che il Trasor tornando un attimo qui non ha il secure element tant'è che il firmware quindi il sistema operativo del Trasor è pubblico è open source questo uno potrebbe dire ah caspita ma quindi molto meglio sì e no non avendo un secure element ci sono addirittura c'è un video online lo trovate uscì nel 2021 questo video se non vado errato di questa persona che avendo il Trasor sotto mano e aprendolo ovviamente non è proprio una passeggiata cioè non è che prendete il Trasor di un'altra persona e ottenete il secret però prendendolo utilizzando tecniche cacciaviti insomma dovete essere anche un po' sperimenti belli no cazzuti ma c'è il tutorial che ve lo spiega riuscite a ottenere la chiave la master key proprio perché non c'è questo secure element che protegge anche da attacchi fisici quindi è per questo che io dico è una questione di compromessi no lì magari vi potete fidare di più del codice perché ci può essere una community che l'ha riletto controllato verificato da leggere invece no però leggere un secure element Trasor no anche qui il secure element potrebbe comunque essere un attacco lato hardware perché magari delle backdoor però capite no la complessità del mondo della sicurezza e la questione si riconduce sempre al fatto che la sicurezza perfetta non esiste così come la privacy perfetta non esiste voi dovete capire cosa fa per le vostre esigenze poi è ovvio io cioè potrei è come se potessimo dare una sorta di casistiche cioè facciamo delle casistiche una persona possiede solo bitcoin perché per sua filosofia per suo principio di investimento possiede solo bitcoin può essere interessante in quel caso o comprare degli hardware wallet che sono bitcoin only che quindi in un certo modo comunque no riducono le superfici di attacco anche magari in maniera minima se invece una persona ha sia bitcoin che altcoin potrebbe diversificare comunque tra gli hardware wallet quindi bitcoin me lo tengo in un hardware wallet e e le altcoin me le tengo in un altro wallet oppure utilizzo metodi ancor più avanzati quindi utilizzo delle come si dice delle multifirma multifirma dove magari ho bisogno della firma da un ledger da un tracer e da un cold card però attenzione perché comprare un tracer un ledger e un cold card sono 150 euro a botta vi costa 450 euro quindi se avete un milione di euro probabilmente lo potete fare anzi ve lo potrei anche consigliare se avete 10.000 euro fate un po' i conti perché comunque è cos'è il 4,5% del vostro capitale vale? magari si cioè non è che anche qui io vi direi di no ma perché per me no per voi potrebbe anche essere che su 10.000 euro voi ne volete spendere anche 1.000 per la vostra sicurezza di quei 10.000 euro no? è tutta una questione di questa tipologia di trade off è per questo che alla fine personalmente comunque continuerò a fidarmi di ledger che non vuol dire che ledger è la mia vita e se fallisce ledger sono completamente fregato sicuramente se fallisce ledger non mi sto a divertire però uno deve comunque prendere le precauzioni anche basate su queste cose qui quindi adesso magari torno un attimo a guardare le domande così vediamo se c'è qualcosa che ho tralasciato o qualche domanda che che vi viene spontana adesso è un aggiornamento su Cosmos e il suo ecosistema ok questo è un po' extra però magari magari in futuro perché no dunque 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 se hai comunque il ledger fisico puoi sempre fare tutto o no oddio devo dirti in micro ISO 95 che non so a cosa è riferita questa domanda cioè puoi sempre fare tutto no veramente purtroppo non capisco cosa tu intenda cioè sì se hai il ledger fisico ed è il tuo allora e hai comunque il pin allora ci hai accesso se non è il tuo non ci puoi avere accesso avessero fatto un bel dispositivo ledger recover ad hoc a regalarlo a chi si faceva un anno di abbonamento per esempio non era meglio sì magari era meglio guarda probabilmente probabilmente a livello marketing avrebbe funzionato in maniera molto migliore perché avrebbe fatto preoccupare meno dal punto di vista di sicurezza probabilmente non sarebbe cambiato molto perché comunque il fatto è che quello che loro hanno anche scritto e quello che il CTO di ledger poi ha dichiarato in maniera ben esplicita è che il firmware quindi il loro sistema operativo è aggiornabile da loro e il firmware ha accesso a secure element ma per forza di cose perché se il firmware non avesse accesso a secure element non potrebbe firmare non potreste firmare le transazioni non solo se il firmware non potesse avere degli aggiornamenti ogni volta che ledger vuole aggiungere una nuova blockchain voi dovreste comprare un nuovo dispositivo perché quello vecchio non potendo aggiornare il firmware non sarebbe in grado di capire magari il metodo di derivazione è differente il metodo di firma digitale è differente non solo quando bitcoin si è aggiornato a taproot ha introdotto l'algoritmo di firma digitale se non avessero potuto aggiornare il firmware dovevamo comprare un nuovo hardware un nuovo ledger quando ethereum è passata la proof of stake ha introdotto anche le firme BLS quindi il firmware lo continuano ad aggiornare anche per questo motivo qui e noi continueremo continueremo no non è obbligatorio però noi continuiamo a fidarci del fatto che il firmware sia fatto bene perché non lo possiamo vedere non lo possiamo leggere quindi possiamo spiegare in breve in breve la differenza fra seed phrase e private key alle twinge sì questo lo facciamo subito e magari mi faccio anche aiutare un attimo e quindi fammi girare la pagina un attimo ok quindi fra seed phrase e private key certo il seed tipicamente è un numero quindi il seed disegniamolo così è un numero da e che palle iCloud da 512 bit e attraverso una procedura poi di derivazione che tipicamente è quella fammelo segnare in questo modo tramite una procedura di derivazione che tipicamente utilizza lo standard BIP 32 che ovviamente nasce con bitcoin ma che poi hanno tra virgolette ereditato molte altre blockchain tra cui per esempio Ethereum dal seed vi si generano vi si genera scusatemi una chiave la disegno in rosso questa chiave è la master private key che tradotto in italiano sarebbe tipo la chiave privata madre radice maestra dalla quale a sua volta poi continuano a essere generate magari fatemi ruotare anche questa pagina dalla quale in maniera gerarchica quindi la disegno come un albero continuano in maniera potenzialmente infinita poi in realtà c'è una struttura definita sempre da altri BIP che adesso non vi vado a mostrare però non è illimitata la struttura e segue un ordine ben preciso ad ogni modo l'idea intuitiva è che a livello gerarchico si creano poi delle chiavi così quindi chiavi figlie che a loro volta possono figliare che a loro volta possono figliare e così via quindi il seed è in alto ed è il capo di tutto la chiave privata è diciamo una di queste foglie è una di queste foglie qui quindi questa è una chiave privata questa è una chiave privata questa è un'altra chiave privata anche la master private key è una chiave privata però tipicamente non utilizzate quella ma utilizzate diciamo delle sue discendenze i suoi discendenti ok e giusto per completare il disegno dove sta il mnemonic phrase cioè le vostre parole mettiamolo qui il mnemonic quindi 12 24 parole disegniamole come un rettangolino e questo qui stanno ancora prima cioè è così si parte dal mnemonic seed master private key mnemonic che tra l'altro a sua volta è generato da un seed chiaramente ok mi spero di essere stato abbastanza chiaro in questo e quindi una singola chiave privata è comunque un bel danno ma non è grave il seed è un danno enorme perché scendi su tutto l'albero cioè se hai il seed così come se hai il mnemonic hai tutto ciò che c'è dopo dunque 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 vediamo ma questi tre pezzi criptati da chi verranno detenuti sarà possibile quindi recuperare vecchi bitcoin a questo punto da chi verranno detenuti non ti devo dire la verità secondo me o non hanno ancora dato bene l'informazione oppure non l'ho letta io quindi sicuramente una di queste tre entità è ledger sicuramente una è ledger però sarà possibile recuperare vecchi bitcoin in che modo no cioè non è che i bitcoin di satoshi nakamoto ledgerli può recuperare ok non è possibile ok ma banalmente se io genero un wallet su trust wallet a me viene data la private key ma non la seed phrase o sbaglio adesso non non ho proprio presente il procedimento su trust wallet ma tipicamente ti viene dato il mnemonic che è quello che vedi a schermo quindi mnemonic seed albero ok ma quando io genero la venticinquesima parola non è comunque semplice ricostruire la seed phrase perché avendo le 24 precedenti la venticinquesima è una su 2048 no è sbagliato perché 2048 sono le parole che possono far parte delle 24 parole ma la venticinquesima è una passphrase e quindi ti direi che si si viene detta la venticinquesima parola ma in realtà è una passphrase perdonatemi magari anche l'errore tra virgolette lessicale è che viene definita così un po' per gergo venticinquesima parola ma in realtà è una passphrase quindi potresti scrivere Alessandro Mazza per esempio è una passphrase accettata così come il mio gatto si chiama non so Bob ok anche quella è un'altra è un'altra passphrase quindi in realtà non è affatto facile proprio perché la passphrase è arbitraria può essere lunga quanto vuoi mi pare che ci sia un limite in realtà di lunghezza ma è veramente gigantesco quindi diciamo che una qualunque passphrase generata con un buon generatore di di passphrase no tipo non so bitwarden funziona funziona oppure non vuoi usare bitwarden trascrivi e va bene ma quindi la seedphrase è scritta proprio all'interno del wallet tipicamente non tanto la seedphrase quanto il seed perché il mnemonic è comodo per noi umani ma in realtà il ledger poi ragiona con il seed più che con la mnemonic la venticinquesima parola dove viene salvata nel secure element no la parola in sé no nel secure element ci viene salvato il seed e quindi tutto l'elemento gerarchico quindi anche utilizzando la passphrase ma con un bacco nel secure element non c'è scampo ok ovviamente ottima domanda parlavo solo a livello di marketing perché poi valgono le cose che hai detto sì per rispondere a d'antaniglia sono d'accordo con te però nel senso allora con con gli occhi di post sì a livello marketing hanno sbagliato perché comunque hanno generato molto caos soprattutto perché è un tema difficile quindi sì anche io avrei cercato di stare più attento quindi per esempio quindi se per esempio io ho trust wallet il mio mnemonic dove lo trovo allora non ti so guidare diciamo bottone per tasto per tasto su trust wallet però tipicamente cioè su metamask per dire anche la versione che puoi scaricare su iphone o su android la prima volta che tu utilizzi metamask ti fa creare diciamo un nuovo portafoglio e ti genera una mnemonic quindi immagino che trust wallet abbia un procedimento molto analogo tra l'altro ricordo che un anno fa l'ho provato anch'io e se non sbaglio è così quindi se tu non ce l'hai vuol dire che lo hai già creato in precedenza ma comunque dovresti riuscire a trovarlo nelle impostazioni mostra seed phrase che poi seed phrase è un errore perché tipicamente andrebbe chiamata mnemonic phrase per distinguere dal seed che viene generato dal mnemonic però insomma poi l'importante è che ci si capisca ecco buono ragazzi direi che cioè per il momento visto che non ci sono più domande credo di essere arrivato alla fine e spero più che altro di aver come dire avervi un pochino spiegato meglio questo questa procedura e ci tengo intanto allora a farvi vedere come conclusione poi se avete altre domande proprio last minute torno in chat quindi tolgo un attimo il mio ipad mi piace concludere utilizzando proprio le parole alcune parole che scrive lo stesso Charles Guillemot che poi perché lo chiamo Guillemot 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 secondo me si dice Guillemot però non ho mai studiato francese ad ogni modo la cosa che mi interessava farvi vedere è qui il thread numero cioè il tweet numero 22 che dice se voleste davvero essere trustless cioè non avere fiducia a nessuno quindi fidarvi solo di voi stessi dovreste imparare elettronica costruirvi l'hardware e quindi andare anche a reperire i transistor se non vi fidate di coloro che vi vendono i transistor crearvi il vostro transistor cioè follia più totale imparare assembly per costruire il vostro compilatore anche qui follia più totale dopodiché costruire diciamo il vostro wallet il vostro nodo sincronizzare con il vostro nodo e dopodiché imparare anche la criptografia per gestire tutti gli algoritmi di firma digitale quindi il senso è sempre quello di a un certo punto entra in gioco una componente di fiducia è obbligatorio perché comunque anche cioè volendo veramente fare questa follia quando andate a comprare un transistor che non so se li avete mai visti a livello industriale ormai li fanno tipo a 8 nanometri credo però ci sono anche un pochino più grandi tipo tipicamente nei corsi universitari di elettronica ci sono quelli che trovate anche su Amazon che sono diciamo a grandezza occhio naturale li vedete ma non è che vi mettete a costruirli voi quindi in un modo o nell'altro no c'è c'è sempre bisogno di andare a fidarsi di qualcuno oh grazie mille Emma che per Trust Wallet vedi che c'era la procedura per per poter vedere il proprio seed il proprio il proprio mnemonic phrase ah tra l'altro volevo farvi vedere anche questa cosa qui dopo torno in chat avevo trovato questa qui è una presentazione addirittura del 2019 che fa vedere come in realtà per esempio ci sono proprio delle tra virgolette tanti problemi tanti superfici di attacco negli hardware wallet ora non voglio tediarvi però qui l'esempio è specifico sul ledger e è relativo al 2019 quindi alcune cose potranno essere cambiate qui è una sorta di disegno no che va un po' a riprendere quello che vi facevo io dove c'è l'MCU c'è il secure element e le applicazioni vivono all'interno del secure element quindi potenzialmente un'applicazione scritta male o che contiene del malware è un'applicazione rischiosa però per essere un'applicazione che trovate su ledger live l'applicazione deve essere firmata ufficialmente da ledger ledger verifica tutte le applicazioni quindi capite che ovviamente le superfici di attacco sono tante ledger cerca di mettere in atto le maggiori garanzie che può ma sicuramente a un certo punto vi dovrete fidare in realtà secondo me bastava che questo processo venisse fatto solo alla creazione del mnemonic e non a posteriore per non creare tutto questo caos è vero però se ci pensi in realtà non cambia nulla perché dal punto di vista pratico così cioè sarebbe come dire tu puoi firmare la transazione soltanto la prima volta che inizia le easy ledger no perché sarebbe inutile io voglio firmare da lì in poi perché è veramente è veramente analogo cioè così come firmi una transazione firmi per poter diciamo scomporre il seed in tre parti e poi criptare queste tre parti e queste tre parti poi escono dal secure element cioè è veramente la stessa cosa dopodiché se tu intendi dal punto di vista sempre di marketing allora posso dire può non so forse sì forse sarebbe stato differente secondo me è più differente come diceva Antani prima è proprio il fatto di avere magari di creare un dispositivo differente proprio per dare l'idea di separare le cose non tanto che non ci fosse la possibilità ma per l'idea di separare le cose secondo me avrebbe funzionato di più domanda ma il ledger può essere formattato in modo da ottenere un nuovo seed sì basta che sbagli più volte mi pare dopo tre volte il pin viene formattato o due non mi ricordo ma tra l'altro puoi anche cioè se non vuoi sbagliare due o tre volte il pin puoi andare nelle impostazioni se non sbaglio c'è restore o comunque qualcosa del genere che ti permette di diciamo di riazzerare il leggere di ricominciare come se fosse nuovo non ricordo le parole esatte ma è qualcosa tipo restoro ripristina una cosa del genere ecco quindi vi posso lasciare magari di nuovo con questo tweet se magari siete curiosi andatevelo anche a leggere lo trovate tanto Charles Guillemette e vi può magari vi ottenete qualche dato in più che ho tralasciato in realtà secondo me ho trattato abbastanza tutto e anche di più di quello che viene trattato in questo in questo tweet per quanto mi riguarda direi che abbiamo fatto quasi un'ora di live quindi direi che possiamo salutarci spero davvero che abbiate apprezzato questa forma focalizzata praticamente solo su questo anche con un intervento un pochino di un'interfaccia cioè dell'iPad per spiegare anche cercando di facilitare un pochino la comprensione della materia quindi innanzitutto vi ringrazio seguitemi soprattutto su Twitter perché ragazzi ormai ve lo continuo a ripetere ma è lì che la magia avviene e anzi seguitemi perché nei prossimi giorni ci sarà una bella giveaway per un evento fighissimo che fanno a Napoli per quanto riguarda Ethereum purtroppo io non ci potrò andare però ho piacere comunque a condividerlo e magari a chiara possibilità sarà interessante insomma lo vedrete probabilmente domani ma potrebbe anche essere dopo domani insomma lo vedrete detto questo ragazzi veramente vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti ciao a tutti un saluto a tutti